Nicolà Jolie, forse uno dei più grandi interpreti francesi della loira, del vino naturale biodinamico appunto in questo territorio baciato da Dio per la qualità espressa. Ecco, Nicolà più di altri ha avuto il ruolo di enologo, anche se lui preferisce identificarlo in un operatore addetto ad accompagnare la natura. Quindi non è che nega il ruolo di enologo che lo contraddistingue, ma lo porta a vedere come un media naturale per assecondare il passaggio da uva a vino. Ecco, è in quel passaggio però che Nicolà individua, come molti altri, la possibilità di avere dei difetti nel vino. Difetto è una parola, un'accezione estremamente negativa. Partiamo da un presupposto. Il vino naturale è tutto buono? No, non necessariamente. È vino, quindi può essere buono o meno buono. Però nel vino naturale questi possibili difetti, se lavorati, se mediati, possono essere un valore aggiunto, possono rappresentare l'identità, possono aiutare anche il vino ad esprimersi al meglio, andando per esempio a colmare una mancanza di freschezza con l'acido acetico, quindi con la volatile laddove l'annata sia stata estremamente calda e abbiamo portato in cantina più zucchero. Quindi l'arte del vignaiolo e del enologo, inteso in senso naturale, è anche quella di saper gestire i possibili difetti. Quindi i difetti controllati, cosiddetti, diventano sicuramente un valore aggiunto nel vino. Però ci vuole grande maestria, ci vuole grandissima conoscenza del territorio, della propria uva e anche del modo di lavorare in cantina. Tra i difetti più conosciuti, più diffusi, c'è il bret, il cosiddetto bretta romices, quindi un lievito. Questo organismo è fondamentalmente responsabile per quell'odore sgradevole del sottosella di cavallo, quindi del cavallo sudato per intenderci. È un odore che chiaramente descritto in questo modo vi fa subito storcere il naso, perché dà l'idea di un qualcosa che rende il vino quasi imbevibile, anche perché il bret lo ritroviamo sia al naso, ma anche al palato abbiamo questa percezione abbastanza netta. Come si porta il bret nel vino? Beh, intanto dobbiamo dire che non è presente naturalmente sull'uva, ma è un qualcosa che si sviluppa durante la fermentazione, che si annida nel legno, che si annida nelle fessure appunto delle mattonelle in cantina. Quindi la pulizia di cantina, indipendentemente se lavoriamo in un modo convenzionale, in un modo naturale, è fondamentale per cercare di impedire al bret di proliferare. Una volta mi è capitato di avere come ospite un grande esperto di birre a fermentazione spontanea e mi ha portato in una cantina una bomba nucleare praticamente, perché era un lambic dove il bret rivestiva un ruolo fondamentale. Ecco, se nelle birre in Belgio avevano già intuito da tantissimo tempo che il bret controllato poteva essere un valore aggiunto, nel mondo del vino ci abbiamo messo un po' di più ed è un qualcosa di relativamente recente. Il bret si annida, si nasconde, non ha bisogno di grandissime caratteristiche, che non ha bisogno di tanto zucchero nel vino. L'unica cosa che un po' lo disturba è il pH basso, quindi la grande sensazione di acidità all'interno del vino, ma anche in quel caso si ritrae, si nasconde ed è pronto a ripartire al momento giusto. Non necessariamente vive nell'ambiente legno e basta. Considerate che è pericolosissimo, se si vuole evitare la sua diffusione, andare a fare i tagli in cantina, perché anche soltanto attraverso il vino, un vino che ha comunque il bret dentro, se lo portiamo in taglio andrà a inoculare il bret all'interno di una nuova massa. Questa è una condizione difficilissima da controllare, però quando si lavora su legno esausto partiamo dal presupposto che il bret aromices potrebbe essere presente e allora riusciamo in qualche modo a donare al vino delle caratteristiche tali che danno riconoscibilità. È un'arte, non è così semplice da portare avanti. Il bret è in grado di resistere alle bassissime temperature, è in grado di resistere alle altissime temperature, a differenza del saccharomyces, quindi del classico lievito fermentativo, è anche in grado di resistere a volume alcolici estremamente importanti. Una volta che è entrato in cantina è quasi impossibile liberarsene. Come dire che a quel punto ci merita forse da produttori da vignaioli cercare di assecondarlo, cercare di capire come effettivamente riuscire a valorizzare al massimo il nostro vino. A volte però capita di avvicinare un vino al naso e di non riuscire veramente a percepire neanche minimamente il frutto della piacevolezza. Ecco, in quel caso non è identità, in quel caso è un difetto, ma ci si può lavorare. La solforosa, per esempio, è uno dei nemici giurati del bret, però il bret è estremamente resistente, quindi per cercare di debellarlo dobbiamo arrivare a utilizzare i livelli massimi consentiti dalla legge, il che vuol dire che il vino è tutto tranne che naturale. Dunque, nel fare vino naturale dobbiamo accettare questo tipo di coesistenza, cercando di capire come poterlo valorizzare al massimo. Le botti esauste, come nel caso, per esempio, di alcuni vini di Cascina degli Olivi o altri, sono in realtà vini estremamente interessanti, con identità e una visione ben chiara. Sono vini che è impossibile negare come piacevolezza. Sono vini dinamici, divertenti, che però valorizzano anche tutto il lavoro che è stato fatto in vigna. Il frutto è ben presente, i profumi non sono netti, è un qualcosa di insieme, è un qualcosa che nell'essere tutt'uno ci dà quella bellissima sensazione un po' vinosa, un po' retro, che ci riporta con la mente a quando il vino era un alimento e quando il vino era a condivisione e non era un qualche cosa appunto da guida. La volatile, l'acido acetico, quella che gli americani chiamano VA, un difetto che forse non è un difetto, ancora se ne discute veramente tanto. Il motivo per cui viene definita volatile è che rispetto all'acido malico e l'acido tartarico, che invece sono acidi fissi, attraverso la distillazione lo possiamo effettivamente separare. Dipende dalla fermentazione, quindi è ovvio che in una fermentazione inoculata dei vini convenzionali sarà molto più semplice non averla perché abbiamo una fermentazione controllata. Mentre per quanto riguarda una fermentazione spontanea, che viene appunto indotta da lieviti naturali, naturalmente presenti non solo sull'uva, ma all'interno dell'ambiente cantina, la volatile si può effettivamente produrre. Ci sono anche dei limiti normati, di legge, per cui non si deve andare sopra un certo livello. Lo avvertiamo con una certa pungenza al naso. Essendo un acido acetico ricorda un po' quello che è l'aceto appunto, quindi questa pungenza diventa evidente. Però può avere anche dei benefici, perché oltre a rendere il vino più fragrante, più croccante, con un frutto più piccolo al naso, quindi molto piacevole, anche in bocca ritroviamo questa piacevolezza. E spesso e volentieri, se ben dosata, può dare grande freschezza al vino. Quindi in annate più difficili o in territori in cui tendiamo con determinate vitigne a avere vini un po' più pesanti, sviluppando volatile siamo in grado anche di dare molto più slancio al vino. E diventa un chiaro, passatemi il termine, marchio di fabbrica, cioè diventa un elemento di riconoscibilità molto evidente. Ci sono vini che più di altri tendono a esprimere questa VA, questa volatile, ma non deve essere mai un problema. Perché, come dicevano da Jolie a Armani della stoppa, la volatile non è realmente un difetto, anzi è una tecnica per cercare di rendere il vino anche più immediato, più piacevole e spesso anche più elegante. Tra i difetti più classici troviamo la riduzione. Riduzione ha a che fare con la mancanza di ossigeno, no, per intendersi. È quel profumo sgradevole di uova marce o quel profumo che ricorda un po' le terme, quindi un po' sulfureo. Può essere una scelta stilistica per una fase del vino, nel senso che il produttore cerca di lavorare quasi in assenza di ossigeno per dare una vita un po' più lunga al vino sull'aspetto organolettico, che però vuol dire che una volta che aprite la bottiglia, la versate nel calice, la lasciate areare un pochettino e questo difetto tende a scomparire. Ha bisogno quindi il vino soltanto di tempo e ha bisogno di ossigeno. Ci sono dei casi in cui il difetto è un po' più evidente e allora, anche se la funzione del decanter non è legata all'ossigenazione, manderemo a utilizzare una caraffa o un contenitore per cercare di travasare il vino e quindi farlo entrare a contatto con l'ossigeno. Qualora ancora non bastasse, abbiamo delle tecniche un po' tranchant che però ci aiutano a cercare di ossigenare il vino più possibile. Prendere la bottiglia, tapparla e scuoterla in questo modo può essere appunto una grande soluzione. In quel momento il vino si muove, l'ossigeno penetra, si apre e quindi riusciamo ad areare molto più velocemente il liquido, il succo. Questo dovrebbe risolvere appunto il problema. Se non lo risolve, ecco, la riduzione può diventare effettivamente un qualcosa che limita la piacevolezza della bevuta e la piacevolezza del naso. All'opposto della riduzione troviamo l'ossidazione. Il responsabile è sempre l'ossigeno. In questo caso però non parliamo di assenza ma parliamo di iperossigenazione, quindi di un contatto troppo prolungato che può avvenire in fase di fermentazione oppure anche nelle fasi successive fino a quello che è l'affinamento del vino. Lo riconosciamo immediatamente questo difetto perché si traduce, soprattutto nei vini bianchi, in colori più bruni. Al naso troviamo quelle sensazioni un po' di vino cotto, di madeira. Troviamo anche però, spesso, quando l'ossidazione è controllata della grande piacevolezza. Troviamo anche grande complessità. L'ossidazione controllata è quella tipica dei vini che utilizzano sistemi come il Solera, quindi che hanno passaggio da una botte ad un'altra. Stiamo pensando per esempio allo Sherry. Ecco, se andiamo verso i Retz troviamo non di rado un'ossidazione controllata. La Flor, quindi questo strato batterico che permette una respirazione quasi osmotica al vino, è un classico esempio di ossidazione controllata. Un'ossidazione che non diventa mai sgradevole o spiacevole, ma conferisce complessità al vino. Anche nella Jura si utilizza per il vino giallo lo stesso tipo di tecnica. Troviamo ossidazione però anche, per esempio, nel madeira, dove andiamo a cuocere effettivamente il vino. Le note che si sviluppano sono note anche di caramellizzazione. Quindi, a seconda, se siamo riusciti da produttori a controllarla o meno, potremmo avere delle note belle, profonde, leggermente zuccherate, di frutta matura, di frutta secca. Potremmo avere anche dei fichi come profumo, delle scorze di agrume, se siamo riusciti a mantenere un po' di freschezza. Dall'altro lato, se abbiamo proprio la sensazione di questo vino cotto, esausto, quello che accadrà comunque con l'ossidazione è che purtroppo l'alcol tenderà a trasformarsi poi in una sensazione di acidità, però non una bella acidità, qualcosa di sgradevole. In quel caso siamo davanti a un difetto puro. Ci sono produttori che comunque hanno fatto dell'ossidazione o della leggera ossidazione proprio marchio di fabbrica. E in quel caso, sebbene integrata, rimane comunque un qualcosa di estremamente identitario, che ci permette di riconoscere immediatamente il vino. Esistono anche dei difetti che sono difetti, punto. Non creano identità, ma creano semplicemente una sensazione sgradevole, sia al naso che in bocca. La Mausines è una di quelle più popolari negli ultimi dieci anni. L'Istituto del Rodano la sta studiando per cercare di capire fino in fondo come si origina. Tanto in ambienti con acidità bassa e pH molto alto e fermentazioni difficili da controllare, si può effettivamente trovare, si può verificare. Mausines ovviamente viene da topo, quindi abbiamo questa sensazione molto sgradevole che si concretizza principalmente al palato, perché è la reazione con la saliva che poi la scatena. Questa sensazione è un richiamo forte al topo, ma lo possiamo identificare con un sapore, anche con un odore leggermente meno sgradevole, quindi il popcorn. Quando ci troviamo davanti a questo tipo di gusto, di sapore e di profumo, non ci possiamo fare veramente molto. Ora la Mausines ha questa caratteristica di rimanere al palato per molto tempo e quindi è difficile, dato che è estremamente marcante, riuscire a liberarsene. Dobbiamo a quel punto aspettare 10-15 minuti prima di poterci godere un altro calice di vino. Per questo che oggi è uno di quei difetti che si spera sempre di non incontrare assolutamente, perché non abbiamo modo di limitarlo e allo stesso tempo non è mai un valore aggiunto per un vino.